L'ospedale di Borgo San Lorenzo non chiuderà i battenti, anzi verrà potenziato. A dare l'annuncio è stato il presidente della regione Enrico Rossi, che tra i vari appuntamenti della diciottesima tappa del suo viaggio in Toscana, ha visitato anche l'ospedale del Mugello. Ospedale che i rilievi tecnici effettuati dagli uffici regionali hanno classificato come a forte rischio sismico. E per provare a porre rimedio, l'azienda sanitaria ha già previsto un investimento di 1.400.000 euro, che però potrebbe non bastare. Per decidere cosa fare da qui ai prossimi anni, l'azienda finanzierà uno studio di fattibilità dove si compareranno le due ipotesi. O fare ulteriori interventi di rafforzamento sull'esistente, oppure si tratta di costruire ex novo l'ospedale. Per la decisione finale dunque si dovrà aspettare, così come si dovrà aspettare che la frana, che all'inizio di febbraio ha sventrato una palazzina e reso inagibili 14 abitazioni nella frazione di Panicaglia, smetta di correre verso valle. L'ampio fronte franoso di 150 metri di lunghezza e 250 di larghezza ha una profondità compresa tra i 10 e i 15 metri e questo rende praticamente impossibile intervenire per arrestarne il movimento. Per le somme urgenze sono già stati spesi 68.000 euro, ma altri ne serviranno per aiutare le 10 famiglie evacuate. Noi supporteremo in tutto e per tutto il comune, sia nell'intervento di consolidamento che dovrà essere fatto e poi anche negli aiuti che indirizzeremo alle famiglie. Abbiamo già contatti e nelle prossime settimane, quando il quadro sarà più chiaro, non lasceremo le famiglie certo da sole. Così come non può essere lasciata sola la regione, che si trova oggi a fare i conti con 150 frane in Toscana. Per questo Rossi ha chiesto al governo di intervenire stanziando 39 milioni di euro per le somme urgenze.